Siamo a domenica 9 settembre e stiamo andando a Fedre che c'è una manifestazione street food in via Campogiorgio. Adesso vedremo qua arriviamo se la troviamo, perché sono già tre giorni che la stanno facendo e oggi sarebbe l'ultimo giorno. Arrivati siamo arrivati, adesso li abbiamo intravisti perché siamo andati avanti con l'auto, ma poi non c'era parcheggio e siamo tornati indietro. Adesso proviamo a fare la strada a piedi e vediamo se li ritroviamo. Siamo arrivati ma come vedete stanno iniziando ad aprire adesso. Allora è ancora presto, stanno aprendo adesso i camioncini per il cibo, abbiamo visto l'indicazione per il mercato dei gusti, ma non so dove, cosa troviamo, sì qui sopra ci sono delle piccole bancherelle. Grazie a tutti. Musica 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 Nel frattempo abbiamo visto queste antichità adesso speriamo che qualcosa di cibo inizino ad aprire così iniziamo ad assaggiare qualcosa qui troviamo il pavimento tutto accettato così che materiale è porfido mi confermano ma adesso dietro un'auto e mi devo spostare bellissima questa scalinata fatta così la visuale qui di certo non manca di qua abbiamo una camminata intorno alle mura mentre di qua abbiamo un'altra visuale di dove stanno facendo che sarebbe laggiù in fondo il street food Musica 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 Grazie a tutti. 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 E questa domenica la concludiamo così. Vi salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Ciao. Ciao.